Una interrogazione parlamentare sulla sassaiola contro le forze dell'ordine scatenata all'interno della tendopoli di San Ferdinando in Calabria è stata annunciata dal deputato di Fratelli d'Italia Vandaferro. La superficialità, l'approssimazione e l'incompetenza di questo governo, dice Vandaferro, si continuano a riversare sugli appartenenti alle forze dell'ordine lasciati da soli ad affrontare gli effetti dell'immigrazione incontrollata. Un'accoglienza di facciata che dietro le dichiarazioni di intenti intrise di ideologie si riduce nella realtà ad un problema di ordine pubblico al quale si aggiunge un grave rischio sanitario. Quello avvenuto a San Ferdinando nel campo dichiarato zona rossa per la numerosa presenza di migranti positivi al covid è l'ennesimo episodio di rivolta contro le restrizioni anti-covid. A fare le spese della rabbia dei migranti sono ancora una volta gli uomini e le donne in divisa. Esprimiamo la nostra solidarietà agli agenti feriti e giriamo all'indirizzo del governo l'allarme del sindacato di polizia FSP che ha ricordato come ai cittadini viene chiesto di continuare a fare sacrifici pesantissimi per colpa del virus ai poliziotti di continuare a rischiare la pelle per tutelare la salute pubblica ma in certi posti tutto va a rotoli e l'emergenza sanitaria svela una volta di più le lacune di un sistema politico che chiacchiera tanto e fa pochissimo. Chiediamo al governo che ha deciso di spalancare le porte ai migranti clandestini, conclude Bandaferro, quali misure sta attuando per tutelare la sicurezza delle forze dell'ordine e per evitare situazioni di tensione sui territori.